Allora, tema Ferencvaros, tema attaccanti, tema Beltran. Mi sembra un percorso quasi obbligato, visto che l'Argentino è stato ai margini bocciato, non lo so, ognuno tragga le proprie valutazioni nella gara dell'Olimpico contro la Roma, neppure un minuto in campo e quindi è evidente che la Coppa diventa per l'ex Liverpool 8 una vetrina importante per cercare di dimostrare a italiano che può essere importante per il gioco della Fiorentina, può essere lui la prima punta vera e titolare per il futuro. Quindi occhio stasera all'Argentino, occhio a Beltran, sarebbe bello conquistare il primo posto con Beltran che segna gol importanti e che dice al suo tecnico, dammi spazio anche in campione.